I carabinieri di Gravina di Catania hanno tratto in arresto a San Pietro Clarenza un cinquantenne pregiudicato residente a Belpasso per atti persecutori. Alla centrale operativa di Gravina è giunta la richiesta di aiuto da parte di una signora che era stata appena minacciata dall'ex marito il quale era riuscito a entrare in casa rompendo a calci la porta. I carabinieri della sezione radiomobile hanno quindi raggiunto immediatamente il posto evitando così il peggio. Gli uomini dell'arma hanno trovato l'uomo che stava parlando con alcuni vicini intervenuti dopo aver sentito le urla della donna una 41enne del posto. Lei invece appena ha visto i militari è uscita di casa e li ha raggiunti in strada rassicurata dalla loro presenza iniziando così a raccontare di essere stata insultata e minacciata dall'ex durante una lite telefonica in seguito alla quale lui l'aveva raggiunta in casa dove si trovava con i due figli minorenni e un'amica. La vittima e la testimone hanno riferito ai carabinieri che l'uomo aveva rotto la porta d'ingresso dell'abitazione a calci con il chiaro intento di aggredire la ex gridando apri questa porta che ti scanno ti ammazzo ti scippo la testa. A quel punto la donna si era rifugiata in un'altra stanza chiusa da un cancelletto in ferro mentre i figli tentavano di calmare il padre senza però riuscirci poiché il 50enne in preda a una furia incontenibile non potendo raggiungere la signora ha iniziato a rompere oggetti in casa scaraventando a terra anche il televisore della cucina. Sentendosi ormai al sicuro grazie alla presenza dei militari dell'arma la signora ha iniziato a sfogarsi raccontando la sua storia che durava ormai da sei anni ovvero da quando la coppia si era separata e lui era andato a vivere in un'altra abitazione. Il marito aveva sempre cercato di intromettersi nella sua vita appostandosi nei pressi della casa coniugale per accertarsi delle sue frequentazioni e creandole problemi per la gestione dei figli insultandola e minacciandola continuamente. Raccolti dunque tutti gli elementi di prova a carico dell'aggressore i carabinieri lo hanno arrestato e ristretto ai domiciliari.